Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura la pagina sindacale con l'avvertenza della Betafence dopo la fiaccolata dei lavoratori ieri sera a Tortoreto. Il presidente Marsilio questa mattina ha fatto visita al presidio fisso che c'è proprio davanti lo stabilimento che è lungo la bonifica del Salinello e che dovrebbe chiudere entro fine anno. Il tavolo di confronto con l'azienda potrebbe aprirsi già a fine mese. Vediamo il servizio. Ricordiamo anche che dall'inizio del 2020 ad oggi con i lavoratori della Betafence siamo arrivati a circa 500 posti di lavoro persi e siamo solo a metà anno quindi ignorare queste 155 fiaccole da parte della politica è un gravissimo errore. Ieri sera alla fiaccolata questa mattina l'incontro con il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. I lavoratori della Betafence di Tortoreto non vogliono rassegnarsi alla chiusura dello stabilimento della bonifica del Salinello destinato a chiudere i battenti entro l'anno così come annunciato qualche giorno fa dalla proprietà dell'azienda il fondo di investimento Carlyle. I 155 lavoratori e i sindacati si stanno appellando da giorni a tutto il territorio regionale e alle sue istituzioni affinché si eviti l'ennesima chiusura su un territorio già martoriato da questo punto di vista. Marsilio a tal proposito ha ribadito che si tenterà qualsiasi strada per salvare i posti di lavoro con un tavolo di confronto già entro la fine del mese. Ho parlato questa mattina con il ministro Patonelli, mi ha garantito interessamento pieno del ministero, spero che avvenga il prima possibile, devo parlare ancora con il sottosegretario che segue questi tavoli dal 31 luglio che le organizzazioni sindacali insieme alla regione hanno chiesto l'attivazione di questo tavolo. C'è un impegno a convocarlo entro la fine del mese però è giusto raccogliere la richiesta dei lavoratori di sapere questa, di essere a conoscenza di questa convocazione il prima possibile. Stiamo aspettando che il ministero dello sviluppo economico ci convochi e finalmente dica se sta dalla parte di questi 155 lavoratori o se sta dalla parte della multinazionale che delocalizza in Polonia e specula sulle vite di queste persone. Stiamo aspettando che anche la politica locale davvero dia un segnale e faccia qualcosa affinché si riesca a salvare la vita di questi lavoratori che di questo reddito di fatto vivono e con questo reddito mandano avanti famiglie intere. Adesso ci occupiamo della situazione delle carceri e lo facciamo andando in collegamento in diretta da Pescara. Siamo davanti il carcere di San Donato dove c'è Paolo Renzetti in compagnia di Sabino Petrongolo della USP, il segretario abruzzese della USP che appunto difende i lavoratori all'interno delle carceri. Linea a te Paolo, buon pomeriggio a te e al tuo ospite. Perfetto, grazie Alfredo, buon pomeriggio. Io ringrazio e saluto Sabino Petrongolo, come diceva il collega da studio, segretario regionale dell'USP, Unione Sindacato di Polizia Penitenziaria, tra l'altro lo possiamo dire il sindacato più rappresentato all'interno della casa circondariale di San Donato, oltre il 60% degli agenti. Petrongolo, partiamo proprio dalla situazione del San Donato, anche alla luce di quello che è accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, l'evasione di qualche ora fa e poi anche l'aggressione che c'era stata a tre agenti di custodia la settimana scorsa. Sì, praticamente possiamo dire che è un agosto abbastanza caldo qui a San Donato, ma come del tronte anche a livello regionale, la situazione è un po' uguale dappertutto, però chiaramente qui si sono verificati questi due ultimi eventi che chiaramente hanno evidenziato le problematiche che ci sono ormai da tempo, che ormai noi continuiamo a segnalare ormai da più di un anno e mezzo che abbiamo attivato questo stato di agitazione qui a Pescara, cercando di coinvolgere il più possibile l'opinione pubblica, perché chiaramente si pensava che così facendo qualcuno si rentesse conto che qui c'è bisogno di personale, c'è questa carenza veramente cronica di personale, però evidentemente quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, perché dall'ultimo concorso a Pescara non hanno mandato nessuno, quindi ci ritroviamo oggi a piangere questi eventi che accadono quotidianamente. Petrongolo, una situazione è quella del carcere San Donato, comune ad altre case circondariali, sovrannumero, dunque presenza di detenuti oltre la capienza limite del carcere, poi ovviamente come diceva lei, carenza di personale, due facce di una stessa medaglia. Purtroppo sì, anche se adesso a seguito dell'emergenza Covid un po' i numeri sono scesi per quanto riguarda il suo raffollamento, perché chiaramente alcuni detenuti sono riusciti a prendere una sospensione pena o comunque ad essere mandati ai domiciliari, quindi un po' il numero è sceso, ma parliamo di pochi numeri, di quantità, qui a San Donato stavamo a 400, adesso stiamo intorno ai 330-340 detenuti, però la carenza organica invece più passa il tempo e più aumenta. Quanti agenti mancano all'appello secondo voi per il carcere di San Donato? A carcere di San Donato c'è una carenza che tocca il 40%, quindi chiaramente parliamo di numeri elevati, parliamo di 40 colleghi e che chiaramente molti di questi sono malati da lungo tempo proprio a causa di queste patologie correlate da stress da lavoro e quindi anche oltre ai pensionamenti ci sono queste malattie che chiaramente vanno a depoperare il numero dei colleghi in servizio. A proposito dell'emergenza Covid, prima che tu prosegua con le domande volevo fare un passo indietro e tornare però al fatto grave che è successo cioè l'evasione del detenuto perché la procura ha aperto una indagine, lei è in grado di dirci che cosa è successo se avete ricostruito quanto è accaduto all'interno del carcere? Ma guardi, per quello che chiaramente si può ricostruire c'è poco da ricostruire, il detenuto che chiaramente ha approfittato di un punto cieco per quando riguarda un posto dove nascondersi nel momento che si stava chiudendo il passeggio, quindi che tutti i detenuti rientrassero all'interno dell'istituto, subito dopo che chiaramente lui è rimasto lì fuori da solo, gli altri detenuti rientrano in reparto, c'è una conta dove chiaramente si effettua una conta per vedere se tutti quanti sono presenti, in quel frattempo lui non ha fatto altro che scavalcare una prima recinzione e il muro di cinta che chiaramente è un muro purtroppo che non ha sistema di antiskavalcamento ed è grave perché chiaramente un istituto come Pescara con un muro di cinta così basso perché a livello nazionale è uno degli istituti che ha il muro di cinta più basso e purtroppo come dicevamo prima non ci abbiamo né le risorse umane e né le risorse strutturali perché anche se chiaramente ci fossero risorse strutturali per quando riguarda via di sorveglianza, antiskavalcamento, almeno andremmo a sopperire un pochettino quello che potrebbero essere le carenze organiche. Sì Paolo, allora a te per proseguire l'intervista allarghiamo anche un po' il discorso fra un po' alla situazione delle altre carceri in Abruzzo. A te Paolo. Sì esattamente, infatti era quello che volevo chiedere al segretario regionale dell'USP, qual è la situazione oggi nelle altre case circondariali della nostra regione? Ce ne sono diverse, alcune importanti come per esempio il carcere di Sulmona, il Castrogno di Teramo, Madonna del Freddo di Chieti, Lanciano, Basto e poi aggiungerei Petrongolo per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che avete dovuto gestire in questi ultimi mesi, da questo punto di vista credo che sia filato tutto più o meno per il verso giusto, non ci sono stati problemi all'interno delle case circondaliari della nostra regione? No, infatti per quanto riguarda il discorso del contagio, in Abruzzo non si sono registrati contagi e questo chiaramente è il fatto di un lavoro svolto bene, con una massima attenzione anche da parte nostra che chiaramente operiamo all'interno degli istituti e con dispositivi però chiaramente per quanto riguarda invece il discorso di carenza, devo dire che è pressoché simile anche a livello degli altri istituti, la carenza organica c'è un po' dappertutto e chiaramente c'è a livello regionale ma anche a livello nazionale, però se chiaramente non si fanno concorsi e non si mette rimedio a questa soluzione non so come andremo a finire perché purtroppo i pensionamenti ci sono ed è giusto che ci siano e di conseguente dovrebbero esserci anche quelle assunzioni che andrebbero a sopperire questi pensionamenti. Carcere di massima sicurezza di Sulmona e poi carcere Castronio di Teramo, queste sono le due case circondali probabilmente insieme al San Donato più importanti, focalizzando il discorso su Teramo e Sulmona qual è la situazione? Sulmona è vero che è l'istituto più importante a livello regionale anche perché ci sono detenuti di una certa pericosità all'interno, quindi è chiaro che essendo un carcere di massima sicurezza anche lì ci sono i problemi legati a un discorso di carenza di personale ma anche a un problema forse legato a tipologie di detenuti messi insieme e quindi con un rischio che potrebbero venire a contatto fra di loro, quindi noi abbiamo non molto tempo fa fatto un incontro con la direzione del carcere di Sulmona dove abbiamo chiesto anche l'aiuto del direttore a far sì che almeno si potrebbe andare a eliminare una tipologia di detenuti che chiaramente non dovrebbero stare insieme a detenuti normali, quindi adesso non vado nello specifico. Quanto riguarda invece Teramo? Teramo è un carcere che ha una forte carenza di personale, sopra un numero di detenuti elevato, le problematiche sono tutte simili e quindi questi problemi si risolvono solo se il Ministero si rende conto di quelli che sono i numeri e le carenze e fanno delle assunzioni veramente importanti per andare a sopperirle. In chiusura, in autunno cosa potrebbe accadere in quanto a concorsi e assunzioni? L'augurio all'ospicio è che si possa sopperire questa carenza di personale già dal mese di settembre ottobre, ci sono delle sensazioni positive da parte dei sindacati? Le sensazioni positive ci sono, però dobbiamo anche tenere conto del fatto che questa emergenza Covid che chiaramente limita anche l'iniziare un corso perché chiaramente questi ragazzi dovrebbero essere messi all'interno delle scuole e quindi anche il Ministero non sa come poterli assumere. Quindi è tutta una situazione in divenire che chiaramente si dovrà risolvere perché in qualche modo comunque bisogna fare assunzioni. Bene, questa è la situazione dunque nelle case circondariali della nostra regione. Io ringrazio davvero Sabino Petronco, lo segretario regionale dell'Unione Sindacato Polizia Penitenziaria. Grazie per aver accettato il nostro contributo e per averci illustrato quella che è oggi la situazione nelle carceri d'Abruzzo. Da Pescara è tutto. Grazie a Maurizio D'Agui per l'assistenza tecnica. Linea lo studio. E noi andiamo avanti con il nostro giornale. Ora voltiamo pagina e ci occupiamo del bando Freestart della Fira. Esprime soddisfazione il presidente della finanziaria regionale Felizi dopo il successo raccolto dal bando destinato a finanziare le imprese neocostituite. Lo ascoltiamo in questa intervista. Una misura concreta che ha avuto un ottimo risultato, così come ci aspettavamo, ci attendavamo e così come eravamo certi che sarebbe accaduto. In questo momento così complesso abbiamo dato il segno plastico di una misura in grado di agevolare concretamente nei fatti l'accesso al credito di tutte quelle microimprese, oltre che di professionisti, giovani, neocostituite o comunque costituite da meno di 48 mesi, che non avrebbero avuto dalle banche orecchi adatte per ascoltare le proprie esigenze. Lo abbiamo fatto con soldi pubblici, abbiamo concesso credito e lo concederemo nei prossimi giorni evidentemente in modo diretto, quindi valutando questi oltre 100 progetti che sono arrivati, quindi un ottimo successo della misura e valutandola nel merito e quindi nella capacità di produrre poi reddito e non invece solamente nella capacità di essere etichettati come soggetti bancabili. Il successo di questo bando significa anche che c'è vitalità nelle imprese? Questo è un elemento fondamentale a cui io personalmente, Fira, ma anche la Regione, nella persona dell'assessore allo sviluppo economico hanno sempre creduto. È un momento molto particolare, molto difficile, che si aggancia ad un momento comunque di crisi economica che perdura da diverso tempo, comunque di una crescita piuttosto blanda dell'economia della nostra Regione. Un momento complesso che sicuramente da un lato deve vedere l'erogazione di fondi perduti, cioè vale a dire di sostegno, di assistenza a chi ha dovuto purtroppo patire la perdita di reddito, ma non può che passare attraverso l'investimento, cioè la capacità da parte del pubblico di favorire processi di investimento. Solo con l'investimento, e questo ci tengo a dirlo, è possibile cercare di riattivare quel processo virtuoso che produce poi consumo e che produce poi occupazione nel medio e lungo periodo. Fira, da questo punto di vista, continuerà su questa strada? Ma questa misura è stata l'esempio assolutamente tangibile di come una società in house possa essere di supporto alla Regione Abruzzo. Una misura che noi abbiamo voluto perché ci abbiamo davvero creduto e abbiamo convinto la Regione Abruzzo a darne attuazione anche in un momento in cui si potevano avere i dubbi sulla sua riuscita. La riuscita è stata ottima. Questa deve essere, diciamo così, la pelle che deve avere una società in house, questa deve essere il DNA scolpito all'interno di una società in house, questo deve essere il ruolo proattivo, fattivo, costruttivo, che tende a dare quindi un contributo in termini di valore aggiunto all'ente pubblico. Cambiamo argomento adesso. A Francavilla, così come in altre zone dell'area metropolitana, è scattato l'allarme emissioni, secondo quanto rilevato infatti dall'Arta. L'amministrazione comunale di Francavilla è pronta anche a provvedimenti drastici se la situazione non dovesse tornare a livelli accettabili. Vediamo il servizio. Sindaco, situazione a Francavilla per quanto riguarda le emissioni, c'è qualche preoccupazione perché negli ultimi giorni l'Arta ha rilevato emissioni oltre i limiti. Nonostante noi stiamo attuando una politica che va verso la mobilità sostenibile, che va verso la chiusura, il traffico di alcune zone con la pedonalizzazione, purtroppo bisogna che i cittadini prendano coscienza di questo problema perché a tutti noi piace fare le battaglie sul mondo pulito, sull'area pulita, vorremmo che tutto fosse a posto, ma in verità sono i nostri comportamenti, i comportamenti dei singoli che generano questo tipo di problema. Allora bisogna capire che magari utilizzare un'autovittura inquinante per spostarsi da solo per poche centinaia di metri è una cosa da evitare per rispettare l'ambiente. Quasi in queste occasioni rimpiangiamo quel periodo del lockdown, lo dico ovviamente come forzatura perché in quel periodo si respirava un'aria pulitissima, il mare era limpido perché ahimè l'uomo non inquinava l'ambiente attorno a sé o lo inquinava in maniera moderata. Oggi purtroppo ci scontriamo con questo grande problema che è un tema ambientale importantissimo, Francavilla permette la mobilità sostenibile, Francavilla permette di spostarsi in bicicletta da due anni, da quattro anni fino a cento anni e quindi io invito sempre più la mia comunità a pensare a metodi di spostamento alternativo. In prospettiva anche in vista delle prossime settimane state pensando di adottare qualche provvedimento particolare se la situazione dovesse restare questa? Ovviamente stiamo monitorando e nel caso in cui dovesse aggravarsi questa situazione non è escluso che passeremo a provvedimenti più drastici di chiusura al traffico di alcuni tratti. La stazione ornitologica abruzzese esprime la sua soddisfazione per lo stop all'avvenimento Saxon the Beach, la discoteca all'aperto che si teneva all'interno della riserva di Punta D'Erci a Vasto. Stop deciso dall'amministrazione comunale anche perché non si riusciva a mantenere il distanziamento sociale per l'emergenza Covid. Occorre sempre, secondo la SOA, una visione però per il futuro di quell'area di pregio naturalistico. Vediamo il servizio. Stop ai concerti nella riserva di Punta D'Erci, stop alle discoteche all'aperto. Voi avevate denunciato quanto era accaduto nei giorni scorsi, De Santis? Sì, in realtà anche comitati locali, associazioni locali avevano avvertito il comune dell'errore di fare concerti addirittura con i DJ dentro una riserva naturale, una perla dell'Adriadio come Punta D'Erci, un posto che dovrebbe essere contraddistinto dal silenzio, da una visita rispettosa dei luoghi. Addirittura in tutte le aree protette del mondo non si può lasciare i sentieri. Perché? Perché le aree protette vengono fatte per la fauna e la flora. Noi abbiamo già occupato il 90% del litorale abruzzese, lo abbiamo antropizzato. Praticamente queste sono le zone di rifugio per la fauna e la flora e dove andare in maniera rispettosa, bisogna fruirle, però non si può pensare di creare degli stadi all'aperto con il disturbo alla fauna e il calpestio. Là c'è una vegetazione molto particolare, immaginare migliaia di persone che vanno lì senza rendersi conto, calpestando questa vegetazione, crea dei danni anche persistenti. Ora, a nostro avviso è stato un errore organizzare questi concetti, meno male che all'ultimo, diciamo davanti a delle immagini inequivocabili anche rispetto al Covid, distanziamento assolutamente assente, c'era assembramenti, ecco una condizione di gestione scorretta di un patrimonio unico che noi abbiamo. Diciamo quello che si aspetta un visitatore che viene da fuori, trovare silenzio, trovare calma e informazioni, servizi all'altezza, guide naturalistiche, questo noi dobbiamo sviluppare. Ecco, a noi preoccupa però, al di là di questi concerti che adesso hanno avuto giustamente uno stop, preoccupa la gestione che il Comune di Vasto vuole fare alla riserva di Punta Derci. Quello è un luogo dove ormai si è trasformato in un posto, un vero e proprio, diremmo, carnaio. Ecco, forse dovremmo pensare come si fa in Trentino, per esempio, anche al numero chiuso, anche a un obbolo magari per avere dei servizi però all'altezza. Adesso passiamo allo sport, calcio di Serie B sempre in primo piano, nel momento di massima difficoltà il Pescara si è ritrovato e la reazione avuta nel secondo tempo del play-out d'andata fa ben sperare per il ritorno, ma a venerdì al Curi di Perugia sarà autentica battaglia per la permanenza nel campionato cadetto, anche sulla scorta delle polemiche generate dal rovente finale all'Adriatico Cornacchia. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Sull'orlo del precipizio il Pescara si è ritrovato. Sotto di un gol alla fine del primo tempo del play-out d'andata tra le mura amiche dell'Adriatico Cornacchia erano spalancate le porte della Serie C. Il secondo tempo però ha restituito un'altra squadra capace di reagire e di farlo anche con giocate di qualità che hanno permesso di ribaltare il risultato ai danni del Perugia. Tuttavia sono tutti concordi nell'ambiente biancazzurro, non si è fatto ancora nulla. La retrocessione resta lo spauracchio da evitare e per farlo servirà un'altra grandissima prova al Curi, dove però è vero che il Pescara avrà due risultati su tre a disposizione, ma guai a pensare solo a difendersi. Sarebbe un errore capitale. Questa è una squadra che non può difendersi, non sa difendersi, se ci mettiamo a speculare sui risultati facciamo fatica. Ha delle qualità e bisogna lavorare su quelle qualità. Pescara ha dimostrato che comunque tra i suoi giocatori ci sono giocatori di grande qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Nel primo tempo di Luedi la squadra è apparsa condizionata. Paradossalmente il gol per Ugino, dopo alcuni minuti di stordimento, è stata una sveglia e il Delfino ha massimizzato un quarto d'ora di furia agonistica con le reti di Galano e Magnero. Fondamentale poi l'apporto di Ugo Campagnaro, la cui sola presenza ha ridato certezze alla fase difensiva del Pescara. La sua presenza sarà determinante al Curi, leggere i momenti, gestire le emozioni, specie nei momenti di sofferenza. Tutto ciò è determinante, ancor prima che l'aspetto meramente tecnico. Per il Toro sarà l'ultima recita, prima del ritiro e il Delfino si affiderà di nuovo alla sua esperienza, così come alla voglia di salvezza del capitano Vincenzo Fiorillo, che predica prudenza e traccia la via per il match di ritorno. È solamente il primo tempo, dobbiamo adesso recuperare le energie e prepararci a venerdì che sarà una battaglia, ma per noi questa salvezza vale la vita e faremo di tutto per raggiungerla. Queste partite si giocano sul filo delle energie mentali, quindi dobbiamo andare lì e rimettere un cuore grande in campo e veramente tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo e portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. La voglia che ho io di portare a casa questa salvezza, ma anche tanti miei compagni, però parlo per me è una questione davvero di futuro e di vita professionale. Vasta eco a livello nazionale hanno avuto le parole del direttore tecnico del Perugia, Goretti, sul secondo pallone buttato in campo dalla panchina del Pescara su una ripartenza degli Umbri. Chiamato in causa da Goretti, poiché avrebbe preparato il gesto, ieri il tecnico Biancazzurro Sotti l'ha rimandato al mittente. Le accuse per quanto non abbia affatto inciso sul risultato del match, il gesto, comunque sleale, è stato giustamente punito dal direttore di gara e dal giudice sportivo. Una giornata al team manager Gessa e 5.000 euro di ammenda al Pescara. Minor eco-mediatica, invece, è stata data al fallo di mano di Ghiomber, un intervento scomposto che andava punito con il calcio di rigore e con il secondo giallo al difensore slovacco. Il Perugia avrebbe giocato più di un tempo in dieci uomini e, già accorto di centrali, Oddo non l'avrebbe avuto per il match del Curi. Arbitro e VAR hanno incredibilmente sorvolato su un episodio che poteva indirizzare fortemente questo spareggio. Bravo il Pescara a resettare e a rimontare comunque. In vista della decisiva gara di dopodomani, Sottil verificherà le condizioni di Delgrosso, Drudi, difficile il recupero, e Bettella, in campo nel finale di due giorni fa. Il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta e Busellato possono contendere una maglia a Scognamiglio e Castanos. Sul fronte Perugia la squadra è tornata a lavorare nel ritiro di Cascia. Hanno fatto rumore i 100 minuti in panchina del Bomber Iemmello in una partita da vincere ad ogni costo, però Oddo potrebbe affidarsi a lui per tentare la rimonta. Andiamo in Serie D adesso. Dopo aver fatto i test sierologici la scorsa settimana, il Pineto si è radunato due giorni fa allo stadio Mariani Pavone ed ha iniziato la preparazione atletica in vista del prossimo campionato. Ai nostri microfoni ascoltiamo il DG Roberto Giammarino che parla delle prospettive della stagione e fa il punto sull'allestimento dell'organico. Roberto Giammarino ricomincia l'avventura del Pineto, si riparte in condizioni particolari. Ci stiamo attenendo ai protocolli che erano usciti da mesi, sono molto restrittivi, cercheremo di fare il possibile. Noi ci stiamo mettendo tanto entusiasmo anche perché è giusto per gli sforzi della società ripartire con tutto l'entusiasmo che questa piazza vuole, con molta umiltà perché abbiamo fatto le cose in silenzio, ci siamo compattati con tutti i ragazzi. Adesso dobbiamo semplicemente lavorare e sperare che questa piaga del Covid non si ripresenti in una maniera pesante. Credo che bisogna andare avanti, la vita continua e queste cose bisogna affrontarle in una maniera giusta, con serietà, con oculatezza, cercando di fare le cose fatte bene e sperando che questa situazione vada a morire. I gironi si conosceranno nella prima settimana di settembre probabilmente, però è possibile già sapere quelli che sono gli obiettivi del Pineto. Noi come ogni anno abbiamo fatto e continueremo a creare una squadra competitiva per ben figurare come abbiamo fatto gli altri anni. Si spera sempre nell'annata buona, pensiamo di aver allestito una squadra equilibrata tra giovani e vecchi e quindi speriamo di avere un po' di fortuna, un pizzico di fortuna che in questi casi non guasta mai. C'è un mercato ancora da completare? A che punto siete? Noi in questo organico dovremmo inserire un altro paio di elementi. È chiaro che insieme al mister stiamo valutando dove dover mettere questi due elementi. La società ci ha dato piena disponibilità per fare un altro paio di operazioni. Ne siamo in considerazione che gli over sono 9, compreso i 2,97. Diciamo che è un organico abbastanza ristretto. Cercheremo di completarlo aspettando anche il mercato dei professionisti o se capitano delle situazioni di opportunità di qualche giocatore, di qualche ragazzo nei rintorni. Abruzzese, meglio ancora, vedremo. Noi siamo alla finestra aspettando anche di vedere dove mettere questi ragazzi. Primi test per il notaresco che il 20 andrà in ritiro ad Isola del Gran Sasso. Intanto si presentano due volti nuovi di questa stagione, il centravanti Dos Santos e il portiere Shiba. Test pre-ritiro per il rinnovato notaresco affidato quest'anno a Massimo Epifani. Ieri la squadra si è ritrovata allo stadio Vincenzo Savini dove sta svolgendo alcune sedute di lavoro a cavallo di questi giorni di ferragosto. Un modo per riattivarsi e rimettersi in moto dopo la lunga sosta dovuta al lockdown. Il 20 agosto scatterà la preparazione atletica vera e propria con il ritiro di Isola del Gran Sasso dove il gruppo suderà in vista dei primi impegni ufficiali. La Coppa il 20 di settembre e il campionato il 27. Tra i volti nuovi, grande attesa per il centravanti Mateus Dos Santos. A lui il compito, a suon di gol, di raccogliere l'eredità lasciata da Marco Sansovini. Sì, sì, no, no, quello pure Bianciardi ha pezzato, quindi è positivo almeno già inserire subito nel gruppo, già conosce i compagni, già parte con piedi avanti. Non ha una grande esperienza, comunque è una di club, ce l'abbiamo tutto qua e speriamo di fare un gran campionato e lavoreremo per quello. Dobbiamo fare una grande stagione e dobbiamo lavorare a soldo e con la mentalità da vicende, quindi dobbiamo fare un gran campionato. Da un estremo all'altro, tra i pali, un'altra novità, quella di Clevis Sciba, ex portiere di Giulianova e Pineto, con cui si è costruito la fama di Pararigori. È un giorno importante perché abbiamo ripreso dopo lunghi mesi, la squadra lo ha lavorato bene e continueremo su questo passo a lavorare. Conosco il mister che l'ho avuto a Pineto, i compagni, anche qualcun altro, giocandoci contro in questo girone. Fammi di Pararigori, sì, speriamo di parare tanti quest'anno. Speriamo di ripetere quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, però è sempre difficile, lavoreremo per raggiungere quell'obiettivo e continuiamo a lavorare. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19, on demand su YouTube e sul sito tv6.it. Ci sono i nostri servizi e tutta la nostra produzione che potete consultare quando volete. Da parte mia l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.